GAMEM ENTERTAINMENT Ciao a tutti ragazzi sono i fan production Bentornati sul mio canale Oggi sono qui con Gmm Entertainment Ciao a tutti E diremo No, I can play Vogliamo specificare subito che Non intendiamo cancellare il gameplay Da Youtube in generale Cioè non vogliamo che non esistano più gameplay Solo che come noi, i nostri piccoli canali Anche i vostri, tu Tu l'hai in fondo Tu con la faccia Si, nel senso che Ormai c'è troppa concorrenza Non c'è creatività Non c'è il gusto di fare video Perché i nostri canali si sono nati per i cortometraggi Lì c'è un po' di creatività Partire da un nulla Come vedete sullo schermo dietro Se lo vedete Uno dei prossimi video A partire da un nulla Scriversi le battute Le cose così Un gameplay Vai a vedere un gameplay di Favij Ti scarichi il gioco Ti metti lì Dici le stesse cose Tre visualizzazioni Contento tu Si, noi vorremmo rivolgerci a Quelle persone che aprono un canale Youtube Ora Cioè nel 2015 Per i gameplay E non Bim 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 Si esatto E pensano di sorpassare Favij Con la loro voce da bambino Non parliamo solo di bambini Non si può far così E' difficile E' dura Anche nel cortometraggio E' semplice Solo che Non c'è quel Quel senso di rischiare Con i gameplay lì Questo Merde Guarda E' tutto pronto C'è già la storia Tu giochi Ti inventi le cose Difficile anche a intrattenere Ma Il cortometraggio C'è soddisfazione Alla fine L'hai fatto tutto tu Si Stai anche lì Ci sta anche ora Guarda il nostro Guarda il nostro video Quello che deve uscire Breve 20 ore di montaggio Contate Contate Ma un 20 ore circa No Eccovi tipo un esempio Voi i gameplay Nei vostri gameplay di merdina Non potete fare questo Ha Che Fico eh Voi non potete O tipo questo Voi non potete fare queste cose Quindi Pensateci bene Guarda Tu nascosto dietro Il gioco di party Quel brutto E' una meraviglia Sorcio Vivente I nostri progetti Diversi dai gameplay Sarebbero Cose creative Recensioni La GTX Devastator Kit For only some hour Ci siamo al nostro orologio O magari I nostri PC C 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 Queste cose viste sui monitor, sui video Sono una merda Sono una merda per noi Questo è un nostro pensiero Scrivetelo nei commenti Scrivete nei commenti un vostro pensiero Sulla nostra idea Essere più creativi Questo è il messaggio del nostro video Non mettete dislike piccole bimbi minchia Perché sennò siete dei bimbi minchia Infatti mettiamo nella descrizione Se metti dislike sei un bimbi minchia E a 30.000 mi piace Ricominciamo i gameplay 30.000 Guardalo che brutto l'hai fatto Oh sì, te lo li trovo Grazie a tutti 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 Grazie a tutti